Il aereo sta salendo, prego, ecco, ha votato, bene, allora ci siamo, dichiaro chiusa la votazione, favorevoli 300, contrari 96, la Camera approva, siamo all'articolo 3, alla votazione dell'articolo 3, dichiaro aperta la votazione. Carrozza, Centemero, Alberti, capo di casa. Allora, capo di casa, non riesce, Minucci, hanno votato, bene, allora mi pare che ci siamo, dichiaro chiusa la votazione, favorevoli 294, contrari 2, la Camera approva, siamo all'articolo 4, alla votazione dell'articolo 4, nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Malisani, Colletti, Colonnese, Capo di casa. Fanucci, Martelli, Martelli. Ci siamo, allora, hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione, favorevoli 309, contrari nessuno, la Camera approva. Allora, adesso dovremmo passare all'esame dell'articolo 5, ma poiché a tale articolo sono riferiti due emendamenti della Commissione, su cui la Commissione bilancio deve ancora esprimere il parere e che incidono sulle medesime parti di testo su cui intervengono anche gli emendamenti già presentati nel fascicolo, dobbiamo accantonare tale articolo e anche le proposte emendative che adesso sono riferite. Peraltro c'è in distribuzione anche la nuova formazione.